Già alle 9 di mattina molti cittadini erano in fila per attivare la tessera sanitaria Carta dei Servizi nazionale di refare la manifestazione della pubblica amministrazione organizzata da Anci e Regioni Toscana a Lucca dal 2 al 4 ottobre ha fatto centro. L'obiettivo infatti era proprio quello di far uscire dai palazzi le amministrazioni, scendere nelle piazze tra i cittadini per parlare di buone pratiche e innovazione degli antipubblici. Perché l'attività dei comuni è rivolta alla semplificazione della vita dei cittadini e noi dobbiamo andare in questa direzione proprio per questo quest'anno in questa bellissima città che è Lucca noi possiamo apprezzare le meraviglie e dall'altro stare davvero vicino e a contatto con le persone. La manifestazione dislocata in diversi luoghi della città ha preso il via alla Casa del Boia con un convegno dove si sono confrontati Anci Toscana, i comuni e la regione sulle novità dei nuovi assetti istituzionali tra città metropolitana e semplificazione dei servizi. Semplificazioni che possono essere effettuate attraverso le nuove tecnologie come Open Toscana, la multipiattaforma online regionale che oltre ai servizi è anche uno spazio per la partecipazione dei cittadini. Un luogo che vuole dare ma anche un po' prendere e quindi una pubblica amministrazione che da erogatore semplice di servizi diventa anche relazionale e collaborativo con i cittadini, vediamo. Nel pomeriggio all'interno del confronto sulla legge di stabilità Alfredo De Girolamo, presidente Cisper Toscana ha sottolineato che in questo momento di spending review ci vuole una riflessione sulle società partecipate. Molte di queste aziende partecipate comunali, provinciali e regionali vanno chiuse e quelle di servizio pubblico locale non sono molte, vanno però in qualche modo accorpate semplificando i servizi per i cittadini.